Pasquale Colmaier oggi inauguri questo nuovo laboratorio, solo di Via Colvento, solo la domenica. Le tue emozioni e soprattutto da un punto di vista tecnico in che modo i clienti si affezioneranno a questa idea? No, è bello, è bello. Stiamo cercando di ampliare un pochino per la clientela, per avere un pochino di far agevolare un pochino questo flusso di persone che arriva da tutte le parti, ringraziando tutti quanti. E tu, il brevetto dei Via Colvento, parliamo un attimo di questo dolce. Come è fatto? Ovviamente non possiamo dirne i segreti. Segreti no, è molto buono, è una pasta choux arricchitissima, quindi il resto non si può dire. Ma soprattutto sono di vari formati, nel senso che oltre a quello liscio, normale, tu lo proponi anche con delle creme vicine. Allora, il formato è sempre quello, la circonverenza. Cambiamo un pochino di gusti, adesso stiamo alternando altri due gusti, quindi un gusto Kinder che è nuovo, è un pistacchio di Bronti che è buonissimo. Stiamo cercando di mettere altri gusti nuovi perché poi il Via Colvento è buono anche senza niente, c'è assoluto. Grazie a tutti.